buongiorno a Piero Massimo Macchini eh eh l'abbiamo tirato giù dal letto no? No diciamo di no diciamo di no anche se avrei voluto rimanere più a letto questo sì la colpa è la nostra ma noi siamo contenti di averlo fatto e allora noi che con Piero Massimo ci conosciamo ormai da più di vent'anni eh io andavo a vedere i suoi spettacoli eh i locali che stavano non so tipo il il B&B insomma queste cose così B&B 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 sì tipo era un Airbnb adesso è una roba di questo mi ricordo queste scene in cui eh già lui faceva i vari personaggi marchigiani una cosa simpatico da lì anche è nata una bella amicizia questo mi fa molto piacere nel frattempo noi eh abbiamo continuato la nostra strada di scrittura lui ha continuato la sua strada eh di attore comico nel quale poi ha maturato tante esperienze e tanti e tanti nuovi spettacoli e adesso noi parleremo sì del nuovo spettacolo però io direi facciamo prima un un flashback sul sugli esordi di 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 Macchini guarda io ci diamo del tuo no? Anche se siamo in registrazione non dobbiamo io io dico sempre io non è che un giorno ho deciso di fare il comico io scemo ci sono nato è stato un dono di Dio il mio quindi gli spettacoli li ho fatti fin da quando stavo alle elementari diciamo e ho iniziato come teatro di strada che è ancora una cosa che amo molto il clown personaggio eccentrico roba tecnica magia mimo insomma eh trasformazioni personaggi cappelli eccetera eccetera quindi questo lo amo ancora lo faccio e adesso sto andando in giro con questo spettacolo che si chiama fuori porta che è uno spettacolo dove non parlo gioco con una porta eh faccio diversi ambienti gioco col pubblico insomma tutto ciò che riguarda un po' il clown il teatro di strada e e questo spettacolo mi dà la possibilità di andare molto all'estero quindi insomma questo mi rende particolarmente felice perché io so un caso un po' strano nel senso che in Italia a me da andare a Napoli a Roma a Milano non mi non mi interessa ma se devo andare a Londra o a Amsterdam quello già mi mi interessa di più non lo so se ho fatto così eh ma è stato sempre anche un modo per indagare la comicità a trecentosessanta gradi nel senso che comunque in Italia posso lavorare tanto con la parola quindi tutti i meccanismi comici della parola annessi no che vanno dal monologo al personaggio a ehm qualsiasi altro tipo di di gioco comico mentre invece nell'altro nella visual comedy eh lavoro molto più mh sulla visual comedy appunto sul mimo sulle tecniche e diciamo che io sono un po' cresciuto a pane a Charlie 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 Buster Keaton eh Starlio e Olio insomma questo è è un po' quella l'umorismo che amo di più e insomma ecco e e poi adesso niente negli ultimi anni insomma mi 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 faccio un po' tutte e due cioè un anno che debutto con uno spettacolo di parola ma anche qui anche nello spettacolo nuovo la parola è sempre un po' a servizio del del corpo no dove eh ho iniziato a capire che che la gente con me ride anche molto con con le gag con la postura con la fisicità con la faccia quindi diciamo che mi piace a farli ridere sia con una battuta secca quella classica insomma la cabaret o come si dice adesso stand-up comedy ma anche con una gag visiva eh così li fai ridere tutti e due contemporaneamente capito in maniera anche fuori porta è l'ultimo spettacolo che sta eh che stai portando avanti mentre debutterai con il nuovo che si chiama Scena Muta esatto Scena Muta eh 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 e sì stiamo sempre lì attorno a quelle a quel tema lì è un titolo che ho pregato a un un autore con cui collaboro che si chiama Matteo Berdini perché Scena Muta era la tournée che facevo in questo cortometraggio dove quest'estate abbiamo vinto anche il Civitano Film Festival abbiamo prodotto un cortometraggio con ehm la la Guru Play che è la mia società e sto cortometraggio si si intitola Gli ultimi saranno i mimi eh e praticamente narra il fatto che rimango ingastrato in una televisione però mi parte sta tournée nei cento teatri nelle Marche e sta tournée dei cento teatri nelle Marche che si chiama appunto Scena Muta e allora io gli ho chiesto se potevo fregare sto titolo che mi piaceva un sacco e con e quindi debutto con questo spettacolo si chiama Scena Muta dove vado a raccontare diciamo tutte le volte che diciamo negli ultimi due tre anni mi è capitato di rimanere proprio a bocca aperta fa Scena Muta no? E quindi faccio un po' di aneddoti fino a che alla fine racconto una storia ehm che mi è successa veramente dove denuncio una persona per stalking e e dove il finale è di un po' che nella vita non si deve far sempre Scena Muta ma a volte bisogna parlare e denunciare insomma quindi diciamo che eh c'è una vita abbastanza movimentata e grazie a questa vita movimentata mi dà gli spunti per poter scrivere gli spettacoli dove la gente poi mi auguro che rida ma al tempo stesso io risparmio lo psicologo perché tu sai fare lo psicologo paghi e racconti il mio caso io tendo a essere pagato e raccontare allo stesso modo allora dicevi mentre eh se vai a Londra la calico il mimo quindi non è che ti devi eh gettare nelle grinfie del del dell'inglesismo mh però a te sei una di quelle persone eh e poi la la come si chiama sono aumentate che ha sdoganato il martigiano per vuol dire sei uno dei primi che ha iniziato a fare cabaret con con il martigiano quindi i personaggi martigiani ma utilizzando eh il dialetto martigiano poi dopo hai avuto un bel un bel seguito dietro di te ma ehm ecco questa questa affare di fare comicità con un dialetto che non è proprio eh cioè non è il toscano non è il siciliano il dialetto martigiano eppure ha funzionato. Ah ti avevo un attimo perso non so se tu mi mi senti ecco allora sì questa è un po' la mia mission no? Diciamo tre virgolette se parliamo da un punto di vista proprio marketing dato che il marketing è nato nelle marche no? Eh la mia mission è quella di marchigianizzare l'Italia perché se l'Italia ha la forma di uno stivale è evidente che è stato fatto nelle marche no? Però a parte questo diciamo che dal mio punto di vista siccome io non faccio cioè mi è capitato di farlo anche altri tipi di spettacoli tipo Shakespeare, Ionesco eccetera eccetera oppure ho lavorato tanti anni nel teatro per ragazzi quindi fai dei testi di autori insomma eh che scrivono per un determinato target no? Però diciamo che quello che io porto in giro di solito sempre le mie esperienze personali no? C'è una scrittura abbastanza autobiografica quindi come faccio a distaccarmi anche da lì da come parlo? Quindi diciamo che io l'ho capito ben presto questo dico esiste la comicità romana, esiste la comicità milanese, toscana, napoletana, siciliana eccetera eccetera, pugliese, accidenti e non può esiste la comicità marchigiana quindi diciamo che io ho sempre fatto questo e combattuto questo ma combattuto soprattutto all'interno delle marche no? Che spesso e volentieri dico sempre ci vergogniamo del nostro accento o pare che ci abbiamo paura che gli altri non ci capiscono quando invece poi più vado avanti e più me richiedono proprio dico la verità il marchigiano no? Cosa che anche io nella prima fase dico cacchio no? Forse fa me studia un po' dedizione no? E invece no? è la nostra unicità il nostro modo di tagliare le parole o di avere questo suono no? E che è ci fa unici fondamentalmente e poi ecco sempre le storie le solite storie radica chic che io le chiamo no? In America se tu vedi un film americano trovi l'attore che è che ne so di Las Vegas parla come quelli di Las Vegas e poi stai insieme ad un altro che sta a New York e parla come quello di New York fondamentalmente quindi un po' sta 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 cosa ce l'abbiamo solamente qua in Italia e poi soprattutto non capisco perché poi vai a vedere un film e trovi sempre un laccendo milanese o laccendo romano quindi fondamentalmente l'italiano non esiste neanche quindi diciamo viva il marchigiano e rendiamolo il più il più chiaro il più palese possibile insomma quindi per me da una parte è stato un modo di accettare chi ero e da un'altra parte un modo di continuare a combatte per farsi accettare come identità e purtroppo io su questa cosa combatto tutti i giorni. Una curiosità come marchigiano hai portato diversi marchigiani famosi nelle tue imitazioni ma c'è qualcuno di loro che se l'è presa un po' male per come li hai trattati? Beh diciamo che poi dopo come io dico sempre questo se io faccio la limitazione tua che poi io non faccio proprio l'imitazione le mie più una parodia clown no? Cioè prendo un atteggiamento e lo esaspero diciamo ovviamente se io faccio un'imitazione da una persona è come se fosse uno scherzo te può far piacere come te può far non piacere perché perché che ne so io prendo un atteggiamento lo esaspero da bambino era proprio quell' atteggiamento che ti ci portava in giro i compagni della classe no? Quindi è normale che dia un po' fastidio però dopo secondo me quando un po' hanno capito chi ero come lo facevo per quale motivo lo facevo perché rendevo una cosa eh che ha invisibile invece visibile dagli occhi di tutti hanno anche accettato e e visto che il mio era un intento comunque nobile non è brutto poi diciamo quelli quelli in vita eh possono parlare che ne so leopardi io faccio un leopardi che è completamente eh a favore del sesso a favore della droga e chiaramente chi lo vede che so i nostalgici leopardiani rimangono sempre un po' come come il gatto che insomma gli fa un po' senso però io lo vedo così io lo sento così ma adesso nei tuoi spettacoli eh rivengono fuori questi personaggi oppure le accantonate completamente no 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 rivengono fuori in questo spettacolo che ho scritto cioè che ho messo su durante la pandemia no eh io di solito o ciclicamente ogni ogni tempo ogni tanto devo rimettere a posto le cose che ho fatto non so se ti ricordi che nel duemiladiciassette io feci il Marche Comedy Record no che feci dodici ore del spettacolo di 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 fila no quello era un modo per rimettere un po' a posto delle energie che nel duemilasedici erano finite ma allo stesso modo era un modo per rimettere a posto tutto quello che avevo partorito eh in venti anni le cazzate diciamo e durante la pandemia sai eh te inventi in una cosa in un'altra e feci questo spettacolo che si chiama Fortuna Macchini dove c'è una ruota che gira e sta ruota è fatta con tanti spicchi e su ogni spicchio c'è una busti c'è una frase di una bustina dello zucchero io dico dietro il bustino zucchero se ci stanno le frasi c'è una frase quella frase lì mi dà il là per un ricordo di un pezzo scritto di un personaggio quindi all'interno di sta ruota ci stanno i vari pagiotti leopardi zenà cochetti eh il mimo parlante ci stanno un po' tutti quindi no 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 li rifaccio poi mi capita spesso di farli anche sulle situazioni diciamo un po' meno teatrali no quelle un po' più da 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 locale da cabaret proprio no allora lì te lo chiedono il bis fatto col personaggio che gli interessa di più no perché poi ognuno c'è c'è il suo poi dopo ultimamente non è che ne ho sfornati tanti nuovi durante la pandemia ho fatto sta sta web serie su market tube che era i mari lungo che era sti tre che viveva però lì era un po' diciamo una sorta di de follia che doveva uscire perché sennò io impazzivo dopo un po' dopo tutto quel periodo dentro casa quindi era un modo per essere vivi ecco diciamo andiamo verso la fine la regia di questo spettacolo di leonardo cattori cosa ti ha portato eh in più con leonardo eh allora leonardo ci siamo incontrati tramite amici in comune soprattutto Giacomo Pompei che è lo scenografo di di questo spettacolo Scena Muta che che ha collaborato con leonardo e a me serviva una persona che non mi conosceva perché sai se mi conosci tu già sai un po' sulle dinamiche che volevo poi mi serviva proprio una regia non una rivisitazione del testo perché il testo già ce l'avevo abbozzato e mi piaceva già come era e però mi serviva un occhio sterno che mi mettesse in scena in determinati momenti con una luce giusta che che la che se tu te vedi a te stesso non riesci a trovare tutte le sfumature diciamo no e invece leonardo si cominciava un bell'occhio anche cinematografico e ho visto dei lavori che aveva fatto mi piaceva e mi ha trasposto diciamo un'idea cinematografica che avevo per questo testo qua in maniera live nel teatro attraverso luci insomma suggestioni e un voice over che che non avevo contemplato io. Molto bene ultima cosa hai fatto degli spettacoli insieme a Max Giusti spieghiamo il motivo? Eh certo eh Max era era diciamo era partita bene questa cosa no prima della pandemia siccome siamo parenti no? Cioè lui è il figlio di un figlio della sorella di mamma che è un già una cosa complicatissima sarebbe praticamente la sorella di mamma sia Maria e la nonna di Max quindi io essendo l'ultimo dei sette figli lui per me è mio pronipote anche se io so più giovane di lui e questo spettacolo l'abbiamo chiamato fratelli e cugini e abbiamo fatto tre date molto belle e poi dopo è arrivata la pandemia e ci ha un po' rovinato sto 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 percorso però siccome ci sentiamo spesso con Max e quindi vorremmo rifare qualche data quest'estate bella e speriamo insomma che ce ne sia l'occasione anche perché ogni volta che che sto con Max cresco tanto da un punto di vista proprio anche di struttura dello spettacolo d'energia insomma Max è è è un provincialotto molto più di me. Allora seguiamo se se dico bene ricordiamo che il debutto è il 29 poi ci saranno le repliche il 30 e il 31 quindi l'ultimo anno passiamo con te all'auditorium giusti di San Terpidio Mare con poi successive repliche sempre all'auditorium il 7 e l'8 sì 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 è stato perfetto l'auditorium è una struttura bellissima che c'è a San Terpidio Mare che noi gestiamo come la successione della gru da quattro anni e io debutto sempre lì e mi faccio sempre quelli cinque sei spettacoli sotto il periodo di Natale proprio per capire se funziona se non funziona dove migliora dove non migliora perché lo spettacolo comico va sempre per approssimazioni successive no non sei mai che la prima volta migliore ma le battute vanno affilate gustate soprattutto vedere come risponde il pubblico questo è un classico e ricordiamo che quello del 31 sarà oltre il tuo spettacolo sarà dentro un contenitore per l'ultimo dell'anno da passare in compagnia esatto ci sarà anche Cesare Cata che purtroppo vuole fare cultura lui vuole fare la cultura che è una cosa che secondo me non ci serve nelle Marche e poi Giulia Morici che è un po' la mia sorta di compagna web in amore grezzo con Marche Tube quindi lei sarà un po' la subrette della serata ecco lì peggio fa la subrette che la facciamo fa allora perfetto è stato sempre come al solito carinissimo e direi che a questo punto noi ci riaggiorniamo a inizio anno quindi dopo il sette sicuramente eh l'otto per fare anche un po' il punto della situazione direi come è andato questo questo nuovo spettacolo e per il momento auguri di 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 fine ma soprattutto un augurio per un ventitré eh decisamente migliore di quello che abbiamo passato me lo auguro se poi per altri anche aspetti che stavamo discutendo eh auguri infiniti va bene te lo faccio bellissima complimenti ciao Piero ciao 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 ciao